Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come. Cristel Carrisi ha rivelato qualcosa che ha sconvolto tutti, lasciandoli senza parole La sua è stata una decisione che sembra essere irreversibile Vi raccontiamo cosa è successo. Della famiglia Carrisi composta da Albano e Romina Power e i loro figli si è sempre parlato molto e tante sono le cose che sono state dette su di loro Indubbiamente è una delle famiglie più chiacchierate d'Italia su cui i riflettori sono sempre accesi In questo caso la protagonista dei Rumors è una delle figlie di Albano Carrisi e Romina Power, Cristel Carrisi Iari, il fratello ha deciso di dividere la sua vita con la fidanzata Tia Crudi, una coppia davvero bellissima, protagonista di una storia d'amore che ci ha fatto sognare tanto e che ha ricordato ad alcuni gli anni più belli di Albano e Romina Di recente Albano è stato giudice del Talent The Voice Senior con la figlia Jasmine Tornando a Cristel, è stata rilasciata una notizia davvero inaspettata sulla quale la ragazza sembra essere molto decisa La decisione di Cristel Carrisi.Di recente Cristel aveva deciso di cancellare tutti i suoi profili social nello sgomento dei fan che non hanno preso bene la notizia Quali sono le motivazioni che l'hanno spinta a cancellare i suoi profili? Si tratta di motivazioni personali Sappiamo che la ragazza è comparsa in tv diverse volte anche come presentatrice e cantante, anche se ha dovuto abbandonare la carriera Canora molto presto anche a causa dei numerosi haters che si sono scagliati contro di lei Intanto Cristel è diventata madre di Cassia Ilenia, e la notizia in questione è stata accolta benissimo dai suoi followers, Cristel è sposata con Davor Luzic Della vita privata di Cristel però non si sa molto anche perché la ragazza ha sempre mantenuto il riservo sulle proprie questioni personali e ha maggior ragione ora che si è tolta dai social Una delle ultime storie pubblicate da Romina Junior è quella che vi riportiamo di seguito su una voce che starebbe circolando ultimamente A quanto pare potrebbe esserci una crisi fra Cristel e il marito Davor Luzic Non si conoscono le motivazioni precise e le dinamiche che avrebbero portato a questa rottura I fan sono molto dispiaciuti soprattutto perché la coppia è davvero una delle più belle degli ultimi tempi che ricordava la bellezza dell'amore tra Albano e Romina Non sappiamo se questa è una notizia confermata o se si tratta dei soliti rumors che circolano sulla famiglia Carisi I dettagli si potrebbero scoprire presto e nel frattempo i fan sperano che non sarà così e che si tratti solo di una crisi passeggera Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video